Tanto discussa e richiesta, ma mai realizzata, una nuova piscina potrebbe essere realizzata nella città della Fortuna grazie ad un'importante operazione finanziaria che vede coinvolte la Fondazione Carifano e l'amministrazione comunale. Il progetto, definito ambizioso, prevede anche una residenza sanitaria assistenziale e 80 appartamenti di edilizia convenzionata. Tutto questo potrebbe venire alla luce in soli due anni grazie al Fondo Immobiliare Cives che potrebbe acquistare la Casa di Riposo Don Paolo Tunucci inaugurata nella primavera del 2009. Questo centro verrebbe venduto dalla Fondazione Carifano a condizione che venga ampliato portando i posti letto da 50 a 110 e gestito con gli stessi criteri sociali utilizzati fino ad oggi. Con il ricavato della vendita poi sarà possibile realizzare un centro natatorio in via Mattei di fronte all'aeroporto. Nell'area scelta di proprietà comunale verranno costruite tre vasche, una da 25 metri con 8 corsie per il nuoto libero, una per la riabilitazione ed un'altra per i bambini. La struttura che sorgerebbe su una superficie di 30.000 metri quadrati un domani potrebbe essere anche ampliata con ulteriori parcheggi e una vasca da 50 metri. Per l'occupazione nel settore dell'edilizia che è fortemente in crisi, 25 milioni di opere edilizie sono calcolabili grosso modo come due anni di lavoro per 200 persone. Dicevo altrettutto che potrebbe dare delle risposte definitive alla città di Fano perché in alcune cose è carente. È carente. Fano è l'unica città che non ha un RSA, una residenza assistita e quindi ha veramente bisogno. Le nostre anziane che hanno bisogno di RSA sono a Fossombrone, sono a Mondavio, sono a Qualagna, sono in giro dappertutto. Fano non ce l'ha. Purtroppo questa è l'occasione buona per averla. Inoltre, come sottolineato da tombare in conferenza stampa, oltre ai posti di lavoro che si verrebbero a creare nel settore dell'edilizia, la nuova struttura, la Don Paolo Tonucci, darebbe un impiego a 100 persone, mentre il centro natatorio ad altre 15 o 20 persone. Al tempo stesso poi si porterà avanti un'altra operazione in via Cena a Gimarra di Fano, dove il fondo Cives intende realizzare 80 appartamenti a cannone sociale. In questo caso però c'è un problema da risolvere con Banca Marche perché l'area è di proprietà di un fondo immobiliare finanziato dallo stesso istituto di credito. È un progetto ambizioso, una bella risposta che noi cerchiamo di dare. Stiamo andando avanti, ovviamente questo avviene con il coinvolgimento di un fondo sociale che ha finanziamenti di casse depositi e prestiti, quindi parliamo sempre di pubblico, per cui c'è ottimismo, stiamo lavorando insieme alla fondazione e devo ringraziare la fondazione per aver sposato questo percorso. E noi pensiamo nel giro di pochi mesi di poter definire il tutto, ovviamente è sempre che tutti questi elementi si possano ricongiungere e ci consentano di portare a termine l'operazione.